guardate che bello che bello la spiaggia di portopalo menfi noi dobbiamo fare un appello a gli americani che vengono qui a spendere dei dollari perché è una bella spiaggia poi non c'è più criminalità ha diventato un po' la visita terrestre perciò venite qua a San Magrida portopalo menfi